Ascolta, se no facciamo così, se lui è qua glielo dai, e se no non è il presidente a... Serie B, senior, 62 kg. A seguire, da Pietro 1, serie A, 84 kg senior, si preparino alla Correa da Luca, Olivieri d'Amore. Serie B, 62 kg. Primi, Tessi, Daniele, Orsini, Iari e Vacca, Mattia. Tessi, Daniele, Orsini, Iari e Vacca, Mattia. Vecca, Mattia. Campeto 3, serie C, 84 kg, si presentino De Vecchis, Valerio, angolo rosso, Castellani, Andrea, Roberto, angolo blu. A seguire, serie D, 77 kg, si preparino Vetturi, Emilio, Marinelli, Federico. Seconda chiamata, tappeto 4, di Luise Lorenzo, categoria 66 kg, serie D. Seconda chiamata, di Luise Lorenzo, serie D, 66 kg, tappeto 4. Seconda chiamata, di Luise Lorenzo, categoria 66 kg, tappeto 4. Terzo, Ciccarelli Christian, secondo Zanetti Marco, primo Moretta Francesco. Allaía, chiamata, di Luise Lorenzo, compressedivo 40 kg, tappeto 5. Vincere Statizzi Daniele